L'istituto comprensivo Montessoriano di Casoria, che ha fatto una performance eterogenea tra ballo, canto, musica, ore e ore direi di musica, balli e canto. Sì, abbiamo ancora la telecamera, Full HD, Welfi, sempre connessi, grande il presidente Riccardo Iussonino, ritira il premio Grino Montessori, fratelli, fratelli, un applauso. Grazie a tutti. Ascolto il corpo che parla, che si esprime da lontano urla, questa voce come un canto, che penetra nell'anima come un incanto. Liberami, 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 liberami da questo male. Liberami, 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 liberami dagli sciacalli. Il cuore resta in silenzio, il cuore resta in silenzio, il cuore resta in silenzio, il cuore resta in silenzio. Mentre grido per una carezza, e vedo un assurdo dietro la bellezza, di chi ci vuole la pace, ma la pace per il tuo mamma. Piacere senza coscienza, la mente gioca con amici di violenza. Liberami, 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 liberami da questo male. Liberami, 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 liberami dagli sciacalli. Piacere senza coscienza, il cuore resta in silenzio, il cuore resta in silenzio. Chi prende il telefono e firma tutto il cuore del cuore Liberami, 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 liberami da questo male Libera me, libera me, libera me, libera me da iusia cali Libera me, libera me, libera me da posto male Libera me, libera me, libera me da iusia cali Libera me, libera me, libera me da posto male Liberami, 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 liberami dagli sciacalli Liberami, 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 liberami da questo male